musica 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 butami fuori figlio di puttana se io non sono l'impostore ti giuro iddio richiamo i morti dentro la tua streaming figlio di puttana musica vota giuda vota giuda vota giuda vota giuda vota giuda vota giuda ti giuro tanto iddio tutte le parole bannabili te le vengo a spammare in chat vota giuda adesso il mio obiettivo è far volar via al masseo sound is activated dove era? sto facendo il mail per chiedere stavi controllando se ci fosse qualcuno lì vicino? si stavo controllando se ci no 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 stavo controllando se c'era qualcuno in in navigation poi sono riuscito ma nel momento in cui ho fatto il gesto di uscire ho visto il cadavere raga secondo me vista la situazione io sono passato direttamente in navigation passando da cioè non navigation in corrida navigation passando da sopra in in asteroidi ho visto steps in ossigeno ha detto che è passato in navigation e non ha visto nulla a me puzza steps perchè steps un po' da me? così perchè non volevo auto votare non ha senso votarmi da solo bla 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 volete vedere come faccio perdere i sopravvissuti? ah beh ah finally ma non ci voglio prendere ero indeciso tra Rhyugan e Stenz no no ma io ho deciso proprio deciso dall'inizio del game di fare il cazzo di terzo impostore il gioco non mi può dare l'impostore sento io il terzo dai grazie Mamma mia che palle Scusate avevo sbagliato nome Adesso è il nome giusto In realtà quello che more di più è Yamcha Oh raga No 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 Io così non ci sto Io così non ci sto Allora io si fa così Si fa così Qual è il profilo Qual è il profilo Quale cazzo è il profilo Questo? Io adesso se apro esce un po' Non impazzisco No Qual è il profilo Cioè questi non hanno neanche il profilo Vediamo un po' Come si gioca questo gioco Perché c'è scritto in push Sound muted Guarda mi voglio infilare nel culo questo mocio vileda Un palo intero Maledu gai Caffettino Caffettino Vediamo se mi ricordo ancora come si fa Vediamo se mi ricordo ancora come si fa Dove? 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 Dove se butta la monnezza Secondo me Ok Ok Secondo me Allora siccome Siccome non è ancora morto È De Luca Ah perché quindi prima che Prima che ero Prima che ero invece vivo ancora Non ero io No no sei te De Luca Sei te Se da una goal del genere Facciamo volare De Lux E De Lux è l'impostore Penso che non vi aree mai più solo No più che altro Più che altro Vedremo che vadi su Zombie Io voto De Luca Io voto De Luca Io voto De Luca Insomma Potevo lasciarlo Potevo lasciarlo Il massione l'avrebbe fatta Avrei vinto Eh vabbè Non lo potevo sapere Che è successo? Che è successo? Allora Silvio Spiegate perché Parte l'ossigeno Mi devi fare parlare a me che ho fungato io Video di puttana C'era l'1v1 C'era l'1v1 C'era l'1v1 Siete scappati dall'ossigeno Ho suonato io Ho suonato io sto cazzo d'allarme Che è successo De Luca? Allora Io ho premuto all'ultimo momento il pulsante dell'ossigeno Se non l'avessi premuto io C'era a fianco a me il masseo che mi guardava e rimbalzava tipo da una parte all'altra dentro l'ossigeno Adesso Cosa di merda Hai finito di fare l'impostore? È tutta la serata che fa l'impostore Rotti i coglioni Resta di merda Sono scappati Allora Se non siete voi due che fate i coglioni Allora l'altro è De Luca Per favore Guarda che se io non stavo lì in ossigeno Avremmo perso la partita Coglione E te tutta la sera che sei il cazzo di impostore Bastardo Smerda OX Smerda OX Smerda OX De Luca De Luca De Luca Sì se vuoi la zona molto Torgoglio mi faccio volare che cosa Ma Ma come? Coglioniti Va bene Votate De Luca Vi prego votate De Luca Se non è il masseo votate De Luca Sound muted Io comunque adesso andiamo a fare qualcos'altro Raga vi avviso già da adesso OI Do Croco OI Do Croco Torno da una vacanza Mi prometto di non fare casino Di non bestemmiare Croco Poi sono diventato un assassino Sparapà Ecco Che è successo? Eh la tua legge della nave zi No no che vuol dire Regà 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 Ti punta il dito e sbaglia Regà Eeeh Vorax Stava facendo la fake mano sul reattore Ma vai affanculo Dai non dir cazzate È vero zi Ma non è vero Eh no zi è vero Ma tanto la stavate a trollare tutti Pure le luci Prima stavate tutti a fare così Ma che cazzo di gusto ti avete Ma io non ho fatto Io non ho fatto una call sbagliata Io non ho fatto una call sbagliata Io ho votato un rincoglionito Di non impostore Che era venuto in ossigeno E stava guardando Un altro Un altro Dei suoi Che stava cercando di fare ossigeno Lui è stato lì a bazzicare a destra e sinistra Senza fare un cazzo Solo Sono sicuro Il masseo era davanti in ossigeno Con quattro secondi Abbiamo fatto voi Ho visto troppo Devi far parlare Eeeh Ma sta zitto Vaffanculo Allora E' una terza che quittate così oggi Me la trollate Jimmy Jimmy Io proprio so 15 volte che faccio il crewmate Fai tu 15 volte di fila crewmate Fai l'impostore Trovi il masseo Che ti guarda a stream O fa che cazzo ne so di altro E ti dice che sei lì Ero senza un senso logico E con i tipi Tu dimenticoloso Sai che cazzo diventi Diventi satana Sai quello di dire satana Sputi poco Ok